G&TV Music Channel Il gruppo degli Osanna, un gruppo prog molto conosciuto negli anni 70 e in più ci saranno i premiati per le varie categorie che ogni anno selezioniamo con materiale che arriva alla nostra sede dell'Arci e quest'anno ci saranno un premiato per la ricerca musicale, dei premiati per il miglior testo letterario, un vincitore del concorso e un premio speciale della giuria. E alla fine chiuderanno gli Osanna con un concerto. Il 4 luglio in piazza Salvo d'Acquisto faremo questa rassegna.